E' uno dei parrucchieri più conosciuti nella sua città, Gubbio, e ora si appresta ad essere protagonista di un nuovo talent tv riservato ai professionisti dell'hairstyle. E' Fabrizio Pandolfi, titolare del Salone Fabrizio Acconciature di Via Campodimarte a Gubbio, da anni punto di riferimento di bellezza per uomo e donna. Fabrizio è stato selezionato tra i finalisti del talent tv Lookmaker Academy, un format in onda prossimamente, a partire da maggio, sulla 7D. Ci siamo trovati addosso questa telefonata, che pensavamo che era una forma pubblicitaria, che c'era una selezione in Fabriano per un reality. Sai, mi ho dato molto calcolo, no? Questa insisteva, no? Guardi che lei l'abbiamo vista nei social, ci deve venire, insomma ci venga, ci dia 10 minuti di tempo. Come arriva Fabriano all'appuntamento, praticamente mi microfono, c'erano un paio di persone nello spettacolo, una presentatrice e un regista. E mi chiedono alcune cose, insomma, dei avvenimenti stilistici che aveva avuto, come svolgo il lavoro, le cose così, 5 minuti per vedere come stavo sotto i riflettori. E la realtà, e che poi, no? E tutto questo, poi è arrivata una mail, una mail di conferma che ero di loro interesse televisivo. Se volevo partecipare, dovevo andare a Roma, firmare alcune pratiche, insomma, trovare degli accordi e tutto lì è partito. 290 agli hairstylist che si sono presentati al provino, 80 quelli selezionati che in un ciclo di 10 puntate si affronteranno in diverse sfide a colpi di style, make-up ed acconciature. Tutto questo sotto gli occhi attenti dei giudici che ad ogni episodio sceglieranno chi eliminare, chi far proseguire, fino ad arrivare ad incoronare il vincitore. Le registrazioni inizieranno il 16 marzo in un resort sulle rive del lago di Como. Ci detteranno un look da dover realizzare e noi lo dobbiamo realizzare total look dai capelli, trucco, abiti e raccontarci un po' la storia, creare un po' una storia che poi davanti alla giuria, che è una giuria di esperti, praticamente voteranno chi dover mandare avanti e tutto quanto. Una grande occasione dunque per Fabrizio che, malgrado la bellissima e eminente opportunità televisiva, non perde di vista la sua occupazione principale, il salone e i suoi clienti. Il voto è importantissimo per andare avanti e tutto quanto è, però di non perdere di vista quello che è il salone, il lavoro. Per me questo resta comunque sia quest'altra, è un gioco. È un gioco che mi sono trovato dentro, cercherò di giocare fino in fondo perché la vita è fatta anche di questo, però di non perdere di vista quello che sono il lavoro. Sarà possibile anche votare online. L'airstylist è Gubbino e fin d'ora sono in tanti, a Gubbio e non solo, visto che sarà il rappresentante per l'Umbria, pronti a sostenere le performance professionali di Fabrizio Pandolfi. Mi auguro di essere all'altezza di questa cosa, spero che non arriva ultimo, no? Perché se no, però insomma, se mi date qualche voto sicuramente saliamo alla graduatoria, speriamo che ci tengano più in considerazione quando ci presenteremo lì. Comunque vada sarà un successo. Comunque vada, ci vedremo in televisione, sarà un successo, vi saluto tutti.